Allora la fotografia è un abogato questo. Un momento. Ah, abbiamo l'altro quattro lato. Pista 10, diritti e libertà, centro democratico. Due. Due. Pista numero 13, Magdi, Cristiano, Allam, io amo l'Italia. Due. Pista numero 18, con molti per l'Italia. Nove. Va bene. Va bene. Pista numero 15, Movimento 5 Stelle, Beppe Grigio, punto inter. 27. Grazie. 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 Grazie.